Ciao nonna, allora siamo pronti? Sì, siamo pronti per il cenone. Ma senti, stasera allora Napolitano fa il discorso di fine anno, Beppe Grillo fa il discorso di fine anno, manca il tuo discorso. Allora fai un piccolo discorso. Come io il mio discorso non sono capace a farlo, non lo faccio. E perché non sei capace a farlo? Allora secondo te, allora nonna, allora esaminiamo una cosa importante. Allora che devo dire? Ascolta, 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 Io ti faccio una domanda, ti faccio una domanda. Italiani, state attenti, di quello che fate lo spendete troppo, come dicono tutti. Dicono che c'è una crisi e invece non è vero, come dicono tutti. E quindi che ricetta dai per il futuro? Sapessi, sapessi, ma non la darei per dubbiare. Come te la daresti per te, non? La dobbiamo diffondere. Cioè, voglio dire, danci una ricetta. Una ricetta di che? Una ricetta di cucina che sappiamo che è la tua specialità. Questa crisi che dobbiamo fare. Come abbiamo fatto sempre. E cioè? Come abbiamo fatto noi tanti anni fa, che non c'era niente. E quindi? Ci arranciamo anche adesso. O volere volare ci aggiustiamo. Bene. Ok, nonna, fagli auguri a tutti. Auguri a tutti, buon anno e mangiate poco. E perché devono mangiare poco? Lasciamoli mangiare, no? Allora lascioli mangiare.